La memoria di Sergio Solmi rivive nella Tour de l'Archer di Morgé. La Fondazione Sapegno ha infatti inaugurato una nuova sala dove è stato ricostruito lo studio del poeta, scrittore e critico. Nel 35esimo anniversario della scomparsa il Centro Studi gli ha dedicato anche una mostra biografica che ne presenta la figura e ne ripercorre la vasta opera. Di concerto con la regione autonoma Valle d'Aosta, la Fondazione Sapegno ha infatti acquisito nell'autunno del 2015, il fondo che comprende gli 11.000 libri della sua biblioteca, le carte e i documenti dell'archivio, oltre al mobilio dello studio in cui lo scrittore ha lavorato per decenni. Una inaugurazione importante della presenza dell'ascito Solmi che credo va a arricchire questa struttura in modo decisivo e determinante da un punto di vista storico e culturale e quindi è sicuramente una giornata per la cultura molto interessante e importante in una fondazione che ha già fatto molto collegando Sapegno a Solmi che due personaggi che hanno amato la Valle d'Aosta e frequentato la Valle. La storia anche personale di Sergio Solmi si intreccia con quella della Valle d'Aosta. Il legame di Sergio Solmi con la Valle d'Aosta è di lunghissima data. Solmi ha conosciuto la propria moglie Dora Martine di Aosta durante una villeggiatura comune a Prestendide nel 1921 e da allora è tornato naturalmente per tutte le feste che trascorreva appunto nella casa della famiglia Martine ad Aosta. E' anche un legame con Natalino Sapegno che Solmi aveva conosciuto già negli anni venti nella Torino di Gobetti e che poi è stato coltivato per tutta la loro vita e quindi ha un legame diciamo a doppio filo con la fondazione Sapegno. La presenza di Dora Martine ha accompagnato la cerimonia alla Tour de l'Arche per tutta la vita Solmi ha lavorato alla Banca Commerciale Italiana rivestendo ruoli di responsabilità e direzione nell'ufficio legale e nella direzione centrale. Sono quindi numerosi i suoi pareri giuridici in un archivio che reca traccia dei suoi studi e dei suoi lavori critici ma anche delle sue amicizie con altri poeti, scrittori e artisti. In primis Eugenio Montale con cui Solmi aveva stretto nel 1917 una profonda amicizia durata poi sino alla morte avvenuta per entrambi nel 1981. Notevolissimo l'interesse della biblioteca che conserva edizioni rare e di pregio. Il fondo Sergio Solmi permette di entrare a fondo nel novecento attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. Solmi è stato veramente al crocevia di realtà che hanno segnato la storia italiana del novecento dalla prima guerra mondiale in cui ha militato, alla Torino di Gobetti, di Gramsci, alla resistenza e poi naturalmente amico dei maggiori poeti italiani. Il fondo Sergio Solmi consta di circa 11.000 volumi preziosissimi che si sommano agli altri 60.000 della fondazione Sapegno e che sono già stati parzialmente catalogati per la metà quindi sono già consultabili sul sito internet della fondazione e su prenotazione è possibile accedere a questi materiali nella nostra sala di consultazione. Per l'archivio ci vorranno tempi un pochino più lunghi perché abbiamo un elenco dettagliato ma dobbiamo procedere ancora all'archiviazione però appunto anche in questo caso gli studiosi sono invitati a contattarci naturalmente per venire a consultarli.